Dopo le sorprese in casa PD non sono certo mancati colpi di scena nel centro-destra, in particolare in Forza Italia, dove dalle liste dei candidati è stato escluso il coordinatore regionale degli Azzurri in regione, Massimo Palmizio, da sempre vicinissimo a Silvio Berlusconi. Chi invece si prepara ad affrontare la campagna elettorale? Galeazzo Bignami, probabilmente ancora per poco alla guida del gruppo di Forza Italia tra i banchi di Viala Aldomoro. Ritengo che sia un'attestazione di stima importante per tutto il territorio bolognese che evidentemente si riconosce un'alternativa al Partito Democratico e che spero nella mia persona possa trovare fiducia e rappresentanza in Parlamento. Nunzia De Girolamo, Anna Maria Bernini, Micaela Biancofiore e Vittorio Sgarbi sono tanti big candidati nelle liste Emiliano Romagnole di Forza Italia. Abbiamo cercato di compendiare le diligenze del rispetto della quota di genere con la rappresentanza territoriale. Credo davvero che in questo senso i big, come vengono definiti i romani, in realtà siano da ringraziare perché hanno dato una disponibilità per rispettare queste quote di genere e per il resto il territorio si è ampiamente rappresentato. La vera sfida di queste elezioni sarà tutta bolognese, quella al Collegio Senatorio su Bologna dove ci sarà il match tra P. Ferdinando Casini e Vasquerrani. Il centrodestra ha scelto di non mettere un big ma Elisabetta Brunelli. Noi crediamo che la scelta di Elisabetta Brunelli sia proprio calibrata sulla finalità di dimostrare che se da una parte vengono schierati dei vecchi, ovviamente lo dico con rispetto, arnesi della politica come Casini e Derrani, il centrodestra decide di puntare su una donna, giovane, in gamba, che rappresenta la società civile, il mondo dell'associazionismo che pur senza tessere il partito in tasca crediamo possa far bene. Una scelta consapevole che io rivendico con fermezza perché credo che sia davvero importante.